sono stronzi vabbè c'è chi ne da qua, c'è chi ne da qua, c'è chi ne da qua con la maglia e lo stronzo eh vabbè è vero eeeh stiii penso che appena mettere i piedi qua dentro esceranno 70.000 mostri no ma non c'era bisogno di mettere i piedi lì dentro, cioè manco il tempo di dirlo sono usciti un po' lo cazzo ne so, i cani della Malesia